salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale io sono antonio e questa volta vi voglio parlare di dispositivi diversi dal solito infatti sono dispositivi che vanno a comandare apparecchiature elettriche ma non hanno bisogno in effetti di un elettricista perché sono apparecchiature installabili 100% fai da te stiamo parlando di dispositivi della switch bot un'azienda nata da pochissimo tempo ma comunque ha già tirato fuori dei dispositivi veramente validi e interessanti ma vediamo il primo dispositivo che poi la punta di diamante dell'azienda perché è un dispositivo piccolissimo con un biadesivo sul retro semplicemente da incollare sopra gli interruttori e poi meccanicamente ci sarà un pezzo di plastica che andrà a premere fisicamente il nostro interruttore quindi qualsiasi persona può andare a togliere questo questo biadesivo incollarlo dove c'è l'interruttore e il gioco è fatto tramite il telefono quindi col bluetooth si va a comandare la nostra luce di casa tranquillamente col bluetooth perché ha una batteria integrata quindi il wifi consumerebbe troppa corrente una batteria e qua ci sarà il tasto per l'abbinamento e per il pairing il secondo dispositivo è questa nuvoletta questa nuvoletta è un po particolare perché fa diverse cose è principalmente è della cosa diciamo madre che fa è un hub per tutti i dispositivi bluetooth della famiglia quindi lei avrà un wifi integrato è un ricevitore bluetooth il nostro switch bot andrà a parlare con lei in bluetooth e lei andrà a parlare con la rete quindi con i nostri assistenti vocali google e alexa ed è compatibile anche con i fttt ci andrà a parlare e ci andrà ad eseguire le azioni quindi la cosa principale è che un hub e quindi questo amplifica di molto le possibilità di questo dispositivo bluetooth mentre la seconda funzione che ha questo dispositivo ed essere un controllore ad infrarossi infatti al suo interno ci sono anche degli infrarossi che ci permetteranno di controllare la nostra tv i nostri condizionatori e tutti quegli oggetti che hanno infrarossi e ci permettono di renderli smart infatti come come dicono dall'azienda con questi due dispositivi in una stanza abbiamo già la luce tv condizionatore magari lettore dvd tutto controllabile reso smart già solo con questi due dispositivi noi avendo un amazon alexa oppure un google home ce li abbiniamo e abbiamo già una stanza già smart senza il bisogno di chiamare un elettricista adesso vi lascio l'unboxing a delle prove di collegamento intanto vi ricordo che se vi fa piacere mi potete seguire su instagram su facebook in maniera da vedere durante la settimana tutto quello che che mi succede e le anticipazioni dei progetti che vedrete in settimana ecco vediamo adesso l'unboxing devo dire veramente un bel impaccamento fatti veramente bene possiamo iniziare a vedere lo switch bot piccolo non immaginavo un impaccamento così bello di dispositivi di questa gamma di prezzo comunque una chiusura magnetica dello sportellino delle indicazioni dove ci andrà poi a spiegare come si connette cosa ci sarà in confezione e per cosa lo possiamo utilizzare oltre le app dove scaricarle sono rimasto veramente sorpreso da da questo impaccamento poi tiro fuori il dispositivo in sé possiamo vedere le istruzioni ed il dispositivo il dispositivo con la già applicata il biadesivo più due gancettini e di riserva è ancora uno un adesivo posteriore di riserva questi adesivi si utilizzeranno agganciati ovviamente al dispositivo per gli interruttori perché devono tornare in posizioni quindi possiamo fargli acceso e lui andrà a spingere e spento e lui ci andrà a tirare sull'interruttore grazie a questa cordicella e questo biadesivo oltre alle pratiche istruzioni molto chiare in inglese ma non ci sarà nessun problema ecco qua dice esattamente come mettere il cordino come vi dicevo prima per gli interruttori vediamo ora il dispositivo dello switch bot lube con gli infrarossi incorporati infatti ce lo dice già subito dalla prima pagina che possiamo dire anche a google per dire di accenderci il condizionatore eccetera eccetera anche qui il classico impaccamento a sportellino ma in questo caso ci sarà un velcro invece che di contatto magnetico qua ci spiega le varie cose pairing eccetera eccetera insieme a tutti i dati generali dice che si può usare con i fttt e con google assist e con amazon lex quindi è veramente funzionale questo dispositivo vado ad aprire quindi bisogna per forza di cosa aprire lì e tirare da questo lembo possiamo vedere il dispositivo in sé di buonissima qualità devo dire con un biadesivo sul retro e qua la possibilità di mettere la luce incorporata che adesso vediamo in auto on off più il tastino di reset le istruzioni sempre a forma di nuvoletta giustamente perché è un hub e ci ricorda anche qui che si può usare tutto con alexa e google se si installa di piatto contro muro quindi con il suo biadesivo di testa al muro ci va a coprire un diametro di 20 metri mentre se lo mettiamo poggiato su un mobile in questo modo quindi ci avrà avanti dietro e su per un totale di 10 metri che comunque una stanza media ce la va già a coprire questo infrarosso inoltre nella confezione possiamo trovare anche l'alimentatore l'adattatorino da varie serie cinesi eccetera eccetera alla nostra italiana con un alimentatore da 5V 1A lo andiamo a piantare così e dall'altra parte ci sarà il jack proprietario vado ora a dare l'alimentazione al dispositivo il jack sarà inserito qua dietro e poi abbiamo il cavo a scomparsa è molto interessante questa cosa e lui si va tutto ad illuminare poi si illuminerà in maniera alcobaleno quando cerca poi la rete noi prendiamo fuori la nostra app e andiamo a cercare il dispositivo ecco ho connesso i dispositivi con l'applicazione quindi vi tralascio tutta l'altra fila ma è veramente facile aggiungi device possiamo scegliere l'hub oppure questo qua se lo piglierà in automatico perché è bluetooth ed è già subito funzionante possiamo vedere che lo switchbot ogni volta che vado a premere già me lo fa funzionare si accende ovviamente quello perché sono in 4G quindi sono in cloud ho già messo tutte le varie cose che dovevo mettere quindi ogni volta che lo vado a chiamare lui mi si accende e mi fa la lucina ma posso anche andare a cambiarmi le cose del televisore quindi io mi sono già impostato tutti i tasti veramente facile basta dirgli nuova applicazione poi tv o quello che vogliamo set up box camera altro ci sono veramente un sacco di marche è veramente facile anche questo da modificare oppure possiamo andare a cambiare i colori del nostro del nostro hub infatti abbiamo un sacco di colori tra cui scegliere adesso per farveli vedere meglio magari vado a girare lo switch che c'è dietro perché adesso è in automatico posso metterlo o sempre spento o sempre acceso in automatico si accenderà solo quando noi lo chiamiamo e andiamo a interagire con lui infatti come possiamo vedere ha un sacco di colori lo possiamo mettere come vogliamo adesso è più sul sul giallino possiamo fare un po' come vogliamo anche adesso dobbiamo stare solo attenti a selezionare switch bot ed abilitargli le varie cose quindi Alexa Google e FTT perché se no non funzionerà ci chiederà l'abbinamento quindi fatto questo io vi posso già far vedere ho già inserito le varie skill eccetera eccetera il funzionamento ehi Google accendi bot certo accendo il dispositivo bot infatti gli ho dato l'impulso e si è acceso adesso lui è tarato come pulsante infatti avete visto che da quell'impulso di un secondo quindi va a premere e poi torna indietro da qui lo possiamo tarare tranquillamente anche come interruttore dobbiamo solamente andare qua nelle varie mode questa è la lunghezza della pressione adesso c'era zero infatti abbiamo visto che torna subito possiamo mettere un sacco di secondi per dire anche 60 secondi con questo possiamo persino andarci a tirare giù magari una tapparella quindi lo impostiamo magari in 20 secondi e lui ci va persino anche a tirare giù la tapparella senza problemi qua giù in basso possiamo vedere il firmware e il livello della batteria è molto importante anche questo da sapere adesso andiamo a vedere il montaggio e poi lo facciamo funzionare ancora una volta magari con gli assistenti vocali bene vediamo una vera e propria installazione di questo dispositivo in un impianto normalissimo io adesso lo attaccherò qua dove c'è la luce principale che è un pulsante lui è già programmato in modalità pulsante quindi abbiamo visto che dopo quel mezzo secondo torna indietro è veramente facilissimo allora vado a rimuovere la copertura del biadesivo e lo vado a inserire assolutamente al centro del pulsante quindi vedo il mio pulsante e lo vado a inserire così al centro in maniera stabile vado un po' a premere e saremo già subito operativi l'installazione è durata veramente quei 5 secondi e adesso il dispositivo è già subito operativo rifacciamolo funzionare Alexa accendi bot e mi va a accendere la luce senza problemi lei mi risponde mi va a accendere la luce senza problemi dopo l'installazione è giusto vedere anche il funzionamento della luce principale perché io l'ho installato su quel pulsante noi possiamo andare ad installare su un pulsante che non adoperiamo tanto anche se il pulsante rimane totalmente utilizzabile facciamoglielo fare a Google ehi Google accendi bot certo accendo il dispositivo bot mi si illumina l'hub sento il rumore del dispositivo e la luce mi si è accesa bene simpatici e carini questi questi dispositivi della Switchbot un'applicazione poi fatta veramente bene e curata anche i dispositivi in sé sono comunque curati e veramente carini fatemi sapere se vi piacciono o cosa ne pensate e fatemi sapere anche se vi interessa magari un confrontone tra tutti i ricevitori IR che ho provato negli ultimi mesi quindi non solo questo dispositivo ma anche gli altri passati magari facciamo un mega confrontone tutti assieme fatemi sapere cosa ne pensate vi ricordo che potete tranquillamente iscrivervi al canale mi farebbe molto piacere inoltre potete cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati infatti vi arriverà una notifica ogni volta che un video verrà pubblicato vi ringrazio per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video vi ringrazio vi ringrazio Grazie a tutti